10.000 euro al comune di Ornavasso per iniziative di digitalizzazione. Lo scorso mese era toccato a Giffa. Hanno partecipato all'iniziativa di Eulo, missione comune contro lo spopolamento dei piccoli comuni italiani, in palio un milione di euro da spartire tra 100 municipi con meno di 5.000 abitanti. Sono i cittadini a votare chi si aggiudicherà i bottini. Ogni mese vincono i 10 più votati e quanto già assegnato può arrivare a 14.000 euro attraverso una ulteriore serie di azioni, in pratica la promozione via social, delle peculiarità di quel territorio. Il voto di cittadini e simpatizzanti è ponderato rispetto alle dimensioni di ciascun comune, di conseguenza quelli assegnati alle realtà più piccole valgono di più. Noi abbiamo avuto moltissimi voti ma eravamo tra le realtà più grandi, riferisce il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi, da qui la necessità di più tempo per entrare nella top 10. I premi non sono in denaro ma in servizi sulla connettività ed apparecchiature tecnologiche, dalle lavagne multimediali ai tablet. Uno sguardo alla classifica attuale perché ci sono altri i nostri comuni in attesa di entrare nei primi 10 e quindi in attesa di voti. Ad alcuni manca davvero poco. Al quindicesimo posto c'è Premusello Chiovenda, al diciottesimo Nebbiuno, al trentesimo Crodo, al sessantunesimo Calasca Castiglione, al novantasettesimo armeno e seguono altri oltre la centesima posizione. Si vota attraverso il sito www.missionecomune.eulo.it